Una intera settimana di festeggiamenti che vedrà Piazza Maggiore e la Basilica del Santo come scenario straordinario delle manifestazioni 2013 per la festa di San Petronio. Il cardinale Carlo Caffarra e il sindaco di Bologna, Virginio Merola, hanno presentato alla stampa il ricco cartellone di appuntamenti per la festa, cartellone che comprende intrattenimenti come spettacoli di bandiere, concerti di musica leggera, teatro, musica tradizionale, la commedia dialettale fino al tradizionale concerto della cappella musicale alla vigilia della festa. Ad aprire la settimana un grande evento promosso dal rinnovamento nello spirito con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. È il nono appuntamento di 10 piazze per 10 comandamenti. Una occasione fatta di spettacolo, testimonianze, riflessioni sul comandamento Non desiderare la donna d'altri, che sarà trasmesso in diretta da TV 2000 sabato 28 proprio da Piazza Maggiore. Il sindaco Merola ha sottolineato il valore anche civile di questo comandamento. Le cronache, cittadine, ha detto il sindaco, registrano le terribili conseguenze di una visione senza limiti del desiderio. Anche il cardinale Caffarra sottolinea ai nostri microfoni l'opportunità che la festa popolare offre per un annuncio del Vangelo alla città. Questo è quello che noi vorremmo, sabato sera, cioè un grande momento di evangelizzazione che anche si aggiunge agli altri grandi momenti che hanno un po' caratterizzato l'anno della fede. Questo ha anche una valenza direi più chiaramente civile anche, ecco perché la vogliamo fare in piazza proprio. Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito, la più numerosa associazione di laici cattolici oggi in Italia, ci spiega il significato della manifestazione. Sì, giungiamo qui a Bologna guardando ormai la meta di questo racconto che ci ha portato in altre otto città e altre otto piazze d'Italia. Non desiderare la donna ad altri esprime oggi una serie di richiami profondi, non soltanto per i credenti ma anche per coloro che devono guardare al ruolo della donna, alla dignità della donna, secondo quello che non è soltanto il pensiero di Dio ma direi anche la volontà degli uomini. Nessuno vorrebbe che la propria donna venisse desiderata, ma vorrei dire che nessuno vorrebbe subire la violenza, la denigrazione della dignità che spesso la donna subisce e le cronache di ogni giorno ci dicono quanto di fatto ci sia necessità di riscrivere questo comandamento non soltanto nel cuore degli uomini ma anche nelle prassi educative dei giovani, delle famiglie, delle scuole, delle istituzioni.